Gianni, è facile ricostruire le responsabilità quando ci si trova di fronte a certi grovigli? Ci si chiede come fa il gruppo Ligresti, che in apparenza è in crisi, quantomeno se hai soldi non li vuole mettere in tutte queste società, a controllare ancora un impero così vasto. E lo fa attraverso un meccanismo, le scatole cinesi. Cosa sono? Sono scatole vuote che dentro contengono altre scatole, poi tu apri e c'è sempre un'altra scatola, così all'infinito. È un meccanismo che nel capitalismo italiano è molto diffuso e consente, con pochi capitali, di controllare delle vaste attività a cascata, a piramide. Ligresti ha diviso il suo gruppo in tante società che rimandano da una all'altra. Ligresti e i suoi figli possiedono il 51% di una società che è la loro holding, si chiama Premafin. Questa società è quotata in borsa e cosa contiene? Non fa nulla, non produce nulla, è solo un contenitore, quindi una scatola, che contiene delle azioni di un'altra società, la fondiaria, sai, la compagnia di assicurazioni che abbiamo visto. I Ligresti hanno il 51% della Premafin e questa possiede circa il 36-38% della fondiaria, sai. Però a comandare in queste società sono sempre i figli di Ligresti che poi ogni anno ricevono compensi di 2,5-3 milioni all'anno. Ma in queste società ci sono anche molte decine di migliaia di piccoli azionisti perché sono quotati in borsa. E poi c'è anche l'Unicredit che è entrata col salvataggio. Cosa succede allora? Che i Ligresti, se andiamo a vedere quello che si chiama il possesso integrato, cioè il calcolo della proprietà, delle percentuali, il 51% della società che sta sopra, il 38% di quella che sta sotto, alla fine hanno solo il 18% di questa attività della fondiaria. Però comandano e decidono. Di chi è l'altro 82%? E di tutti i piccoli azionisti, quelli che non contano nulla, il famoso Parco Buoi, che però vengono sempre utili per salvaguardare il potere di questi signori. Parco Mucche, perché vengono sempre monti. Esatto. Parco Pecore, che poi c'è anche la tosatura con i titoli di Stato, lo posso vedere in altri casi. Ma non è finita qui. Sotto la fondiaria c'è un'altra società, la Milano Assicurazioni, che non è posseduta per intero. La fondiaria ha il 63%, il resto è sempre dei piccoli azionisti. Quindi nella Milano Assicurazione i ligresti in realtà hanno solo la proprietà del 12% del capitale. Però anche qui sono loro che comandano. Tutta questa architettura finanziaria produce degli effetti che sono, guarda caso, vantaggiosi per i ligresti, ma svantaggiosi per tutto il resto, tutta la moltitudine dei piccoli azionisti. Abbiamo visto che nel 2009 la famiglia, perché aveva a troppi debiti, decide di vendere gli alberghi, che sono tutti suoi, la catena Ata Hotels, a queste due compagnie di assicurazioni, la fondiaria e la Milano. Appena le vende, peggiorano i conti. All'improvviso i conti peggiorano, esplodono le perdite, il bilancio era già in rosso e in un anno e mezzo, poco più, perde 70 milioni di euro. Alla fine queste perdite, su chi vanno? Vanno soprattutto su questi piccoli azionisti, il Parco Buoi. Però non è finita qui. Quindi, con questo spostamento di figurine, aumenta il debito della famiglia Ligresti e quindi il peso del debito sulle banche. Le banche, chi sono più esposte? C'è Unicredit, c'è Banca Intesa e c'è, guarda caso, Mediobanca, della quale Ligresti è anche azionista. Bene, come si chiama il tuo libro in uscita? Si chiama Capitani Coraggiosi. Ne occupi pure di Ligresti, immagino. Ligresti è il primo capitolo. Va bene, allora. Grazie. Grazie.